Identificato e denunciato è il ragazzo che sabato sera ha seminato il panico in Viale Italia sparando alcuni colpi in aria con una pistola a salve. Si tratta di un 25enne di Avellino che avrebbe messo in atto il folle gesto per gelosia all'uscita da un bar di Viale Italia. Nel locale ci sarebbe stato un litigio con la propria ragazza in seguito al quale ha esploso i colpi in aria con un'arma giocattolo munita di tappo rosso. Sarebbero quattro i colpi a salve sparati alla presenza di tantissimi giovani che poi hanno visto il 25enne allontanarsi in macchina. La scena è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza, immagini che hanno consentito in poche ore di risalire al ragazzo denunciato per esplosione pericolosa e procurato allarme. L'azione è sconsiderata, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, neppure durante il conseguente fuggi-fuggi che si è creato in zona. Viale Italia infatti a quell'ora, era poco prima del luna, era affollata da tantissimi ragazzi. Sul posto si sono portati polizie e carabinieri, gli uomini dell'arma stanno portando avanti le indagini dopo un'azione sinergica tra forze dell'ordine grazie alla quale il 25enne è stato subito identificato. Nell'abitazione del giovane sono state trovate altre munizioni per la pistola a salve. Un sabato sera che ha rischiato di trasformarsi in tragedia e purtroppo non è la prima volta che accade. Il sindaco festa, profondamente indignato per quanto accaduto, si è rivolto ai giovani avellinesi, isolate e denunciate chi getta fango sulla nostra città, composta per la stragrande maggioranza da gente per bene che ripudia le violenze. L'accaduto che indigna il sindaco preoccupa tantissimo le famiglie. Le scuole chiuse, le belle serate, l'estate alle porte sono componenti che ogni sera vedranno ragazzini e ragazzi presenti in strada e nei fine settimana saranno sempre più numerosi. Sono necessari immediati e urgenti provvedimenti, non è pensabile vivere con la paura che ogni sera può accadere qualcosa.